ma c'è sì sì che non muoio però ma che no non li va bene la spruce chest mi serve l'hockwood aspetta che che ha messo la spruce chest la genis ok l'andiamo a disabilitare nel compito sì ma io voglio comunque voglio 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 la chest di hock sì ma in ogni caso lo sai che andremo a sì ma voglio ho scusa non lo sapevo esiste la guai lei sì ma non la guarda non ci ho fatto caldo effetto facciamo facciamo una cosa tipo ultralamer facciamo j andiamo a cercare una zona in cui c'è lo spruce c'è un villaggio dove c'è te villaggio dove vedi devi andare aspetta appena ci vado ma non posso perché non va non posso salvare devi mettere la y a metto 60 facciamo 68 70 tipo mi tipo no e poi doveva fanculo villaggio teleport per questo mi sa che stasuderemo questa minimappa con l'altra e tipo sta generando il villaggio e sto crepando che culo e no aspetta devo un pochino cambiarlo perché forse tipo comunque seriamente eritta te lo dico te lo dico a te poi lo faremo Ok, perfetto Metteremo la A posto della giorni Questo dovrebbe essere A me piace la giorni Sì, però è No, complicato Cioè, non difficile Per andare a fare un waypoint Non hai direttamente la lista Beh, a me piace così Sinceramente, è molto più comoda Perché se no con le altre Non puoi piazzare il waypoint Oh, ma non era generata No, io avevo visto Uffa Vabbè Devo trovare Io avevo visto una pianura Che poi alla fine è diventata una cosa A me serve un oak Qua Vado qui Oak Adesso chiamo waypoint oak E mettiamo 80 Eh, dammi il waypoint dell'oak Eh, un attimo Non so se c'è veramente l'oak Bene, a parte questo è superlamerato Tra l'altro, quanto stai recando? Eh, un attimo che sto laggando Ok E quanto stai recando? Leggi la chat Sì, ho letto Ma da quanto? Da quanto? Boh, non so Aspetta te lo dico subito Dove c'è scritto? Che non... Dove c'è scritto? Eh, su Xbox One mi sa che non c'è scritto No, non c'è Vabbè, non da tanto Chi se ne frega Andiamo avanti Senta nel caso da pro Vabbè, massimo la dividi in due Esatto E' un po' Anzi Tutta la sera la carichi tu Che big inventario Che c'ho Che? Ohak Sì Ho trovato l'ohak E non ho più la scia Dammi, dammi il waypoint No, mi seruta la scia Non sto scherzando Sì, location Niz Aspetta XN Eh, no Quella è un'altra cosa Diciamo che L'ohak E Aspetta, che altezza sto? Aspetta, che rimuovo questo qui No, perché edit Remove Close Close B Ohak E a 87 505 68 Dammi una Porta Porta Una fottutissima Asha Accetta Perché Non ce l'ho Dai Tipi Ma Eh, non esisti Non ti vedo Ok, ti vedo Voglio Noak Dammi l'accetta Grazie Dov'è? Ok No, la birch Ma neanche se mi pacchi la birch Ah, tu non puoi spaccare Con quell'accetta standard Non puoi spaccare le foglie Perché se spacchi le foglie Si consuma l'accetta Oh, ops L'ho appena fatto Eh, sono troppo affamato per usare la ley miner, madonna Ti uccido? No Se vuoi del cibo No, scherzavo Questa cosa la disabilitiamo, vero? Nei confi Cosa? Questa cosa della ley miner Perché è una serie sul tubo Deve essere veloce La serie non è che deve essere pallosa No, senti Magliorino Vieni qua Pronto, parco Toglie le le mani Leva Ehi tu, parco Leva le le mani di dosso Vabbè, adesso torniamo all'accampamento Io torno all'accampamento che dormo Aspetta Accampamento Tele Fammi dormire un po' a me Aspetta Eh, tanto Neanche adesso lo spawn Ti avverto Cioè, te lo ricordo Vabbè, vieni comunque Una mela Anche se ha poca saturazione Vai Con lo hack Teoricamente Adesso potrei fare una cesta Normale Se mi viene fuori Lo hack chest Mi incazzo Ma hai visto che c'è Un canyon Nella foresta, vero? No, porca tralota Hack chest Scusa, la chest? Eh, la chest? Mi gasta con tutti i tipi di legno Sì Sai così Incrocia Ah, con No Posso usare I Wood log Vediamo se mi viene fuori Una cesta normale Con i wood log Yes Ok, ho trovato l'alternativa Sei tra Vabbè, tanto la disabilitiamo Tutte queste cose Perché Sì, intanto comunque Wood miner Bam Dove andiamo a scavare? Ma, no, no, no Fai quello di pietra Uffa Avevo appena fatto il mio primo Wood miner Sì, la stone Che palle Mi tocca Che cuoce E vieni a dormire Vieni a dormire Che mi stanno ammazzando Vieni a dormire Ho detto Skeletro di merda Muori Ho detto che Devi morire A troia Muori Muori Creeper Dormi Eh, con un creeper davanti al letto? Faccio io Bam Faccio io Faccio io Faccio io È mio Oddio È mio Dormo io No, fammi dormire a me No, va bene Good morning everyone Save the world Minchia Adesso ti fotto la tomba No Ok Bomba È bomba Mi serve una fornace Vai, faccio io Faccio io Ormai Alla sta bunda Allora ti mando Fan culo e metto Schermo intero No, schermo intero Staci Certo Che schifo Ehm No, vabbè Ho per scuocere No, quanti sono di stone? Tu quanta stone? Metti un po' di cobblestone Che io l'ho finita Cioè, ne ho due Otto, vai Sì Consumiamo un solo call Non ti fotto il call Dai Fornace Seria buona time torch In questo momento Eh, poi vedremo se la darkcraft l'hanno aggiornata Eh Sì, l'hanno aggiornata Ah Però tipo Non lo so Con questo pack non ne ho idea Ha venuto così tanto schifo Che secondo me non ci sta Cosa? Secondo me non ce la fa Perché? Cioè, non ci sta dentro Va in conflitto sicuramente con qualcosa Sì Mi serve la cobblestone Infatti la stavo andando Ah no Sì, me ne serve uno Mi serve uno di cobblestone No, non sto scherzando Uno di cobblestone Ah, ma si può fare piccone di mostone? Eh, no No Tien Grazie Al mio piccone Burp Ok, ecco a voi Un stunmager Il prossimo è iron Ah no, non ce li ho Scherzavo No, no Il iron lo possiamo fare sin da ora No Sì Ma non ci 29 vesti di ferro Quanti? 29 Tu quanti ne hai? 29 Ah, io ne ho 6 Aspetta 29 32 Aspetta Mettine dentro i 29 Mettine dentro No, 16 No, no 16 E io ne ho altri 6 Se me ne dai Mettine dentro altri 2 Mettine Aggiungine 2 Aspetta, aspetta L'iron miner si fa con 9 9 più 6 15 18 18 pezzi di ferro Lascialo cuocere Via Lascialo cuocere È tagliante la streccia Ma sì, intanto avvio questo No, no Quanti pezzi di ferro hai tu? Ah no, oddio Però saranno anche 3 del piccone Di pezzi di ferro Eh sì, sì 18 18 Io non ho 6 Il piccone Ah ma No, no, no Però tu ne hai aggiunti 2, giusto? Sì Sì E aggiungo gli altri 6 Così sono giusti Per consumare carbone correttamente Not really better than iron Acquire hardware Ammazza voi I achievement I achievement Che se fanno Se fanno Tu fai achievement Sai cos'è? Achievement Achievement No, ma che cacchio fai? Non così in giro Da un fastidio Fai una zona in cui sono solo quelli Tu quanti ammucchiati Così occupi meno spazio Guarda, guarda Guarda, fra Guarda qui il problema che ti stavo dicendo Anzi forse La zconfig Eh, cosa fa? Funziona anche nel server No, vero? Eh, che cazzo serve? Come fai? Non c'è un'interfaccia sul server Bene Perché? Perché guarda quello che ti voglio far vedere Aspetta Quello che ti dicevo io prima Eh È questo Sì, no, ho capito cosa intendi Ah Sì, sì, ho capito cosa intendi comunque Ma questa cosa qua Degli alberi qua attorno Da fastidio Mi faccio un po' di Più che altro perché così Devo abbattere tutta la Devo abbattere la foresta E con la manera in questo modo Mi viene un po' Da fastidio, ok? Muori Un po' di pioggia Mi hai messo tu? Sì Così Pensa quando entrerà Francesco nel server Tipo, cioè Bam Ti entrerà già tutto spammato No, il problema più che altro sarà Che tipo Luggerà a merda Lo so E ci godrò Madonna che bello Perché non è un lagger Lui sì Ah fra dopo questo Andiamo a giocare un Warface Oppure andiamo a giocare Sì, va bene Perché No, mi sto fumentando troppo Con quel gioco Perché Mi piace troppo il Cray Dai, ancora uno pezzo di ferro Dai 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 È mio Sì Ci foda la seconda crafting Comunque Sì, ho visto Lo sto usando Blocofiron Blocofiron Brutto merda Dammelo 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 Fermo Dammelo Ti ammazzo Ti ammazzo Ti ammazzo Ti ammazzo Ti ammazzo per piccone Dammelo Dammelo Ho terzo di darmelo Me lo dai? Non pensarla male Guarda, guarda Fra, guarda Dove ne fare questo? Sì, lo so che devi fare Tu ti serve anche la pala Mettiamolo qua Non qua È brutto Ma mi interessa Mettilo qua Hai preso il piccone Che c'era a terra? No Non c'era piccone a terra? Io non l'ho preso No, perché stavamo Stavamo per perdere Un piccone in ferro Eh, che se ne frega Eh, spero ci serve Un po' di cobblestone Eh, ce l'ho io L'ho raccolta Eh, mettila Eh, aspetta Serve anche la pala in ferro E, vabbè, gli upgrade Abbiamo, facciamo anche gli upgrade No, no, per adesso no Abbatti questo albero di OAK Beh, un Iron Upgrade Non costa una scippa Ah, no, Redstone Sì, ma serve Redstone Eh, ho il coca Eh, non ho l'Asha Ho finito l'Asha Ah, ma è già partito Eh, come che di che vada tu Scusa Scava solo sotto di sé però Eh, sì, lo so Però così è possibile Che ci trova la Redstone Per questo l'ho messo Ho fatto fare con l'Inferro Sì, sì Diorite Granite Gravel Utilissimo Oh my god Cos'è? Cosa? Cerca Inf nella nail Inf? Infi, cerca Infi Infi? E guarda il martello Oh, Redstone Mia Vedi che ho fatto bene a quest'ora Guardavamo con la Redstone Vedi, vedi Eh Non cadere dentro la vozza Perché sennò muori Shift Cosa cazzo è? Aspetta eh Oh mio dio Eh, no Perché Perché mi hai dato Tutti sti stag di legna Che non ne ho Cioè che non ho spazio Perché così Mettiamo a fare l'altra Sì ma togli quella La legna Prendisela Perché io non ho spazio E devo andare a depositare Un po' di roba Dentro una cesta Che sto per creare Anziché ho già La bellissima Cesta qui Mettiamo dentro Tutto lo spruzzo Metti tutta legna Dentro Tutta la legna Ho detto Solo legna Via Tira per il resto Legna e minerali grezzi Ah, è vero Gli orberry Anche Ah, vabbè Inutile Ah E tutti i levanti Del legno Sì, sì Eh, la grana Non è legno La terra Non è legno E quello è un dettaglio A me nel frattempo Avvio Warface Eh, fra Penso che questo genere Può essere durato abbastanza No? Ma no, dai Sì Pensai che C'ha 40 minuti Sì, vabbè Quello è un dettaglio Eh, tipo Mi suiciderò Mi suiciderò Per poter Montarlo dopo Ah, legno Sì, ma tanto sei tu che ti devi suicidare Oh, fa un culo Eh, facciamo una prima Finiamo con un bellissimo upgrade Facciamo una upgrade Uno No, vabbè Anche dieci Facciamo dieci upgrade Aspetta, intanto vado a vedere qua Come stiamo alla destra Mi fottuto un po' di legno Aspetta, come si faceva la upgrade Che palla Infatti, need goblestone Oh, come si chiama Quello lì La progressive Pro La cosa più Laversa No, più stupida Più che altro Sarebbe quella Di andare lì E andare giù A scavare Vai in giugna Lire a scavare E scavare La cobblestone Per riprendertela Non lo stavo Perché Giuro No Non ci posso credere No Ok Dieci Wooden Io sono davanti a mele No, oddio Ma costa No, alle mele hanno poco Poca Porca trota Sturazione Poca saturazione, sì E la stone Mi servono 80 di stone Hai tanta stone? Mi servono 80 di stone Appunto Hai tanta stone No Non neanche uno Ho uno di stone No, è vero Ho uno di stone Ne hai tu Tanta Dammela Ma cobblestone o stone? Non ti dico altro Ok Quindi Io dormo No, dorm No, tocca a me Dormire Non te lo do Il troco Magari non fare Spodere il microfono Giusto Non ero dimenticato Che sto registrando E dammi la stone Cobblestone Che intanto la metto a cuocere Ma io la sto scavando Per il miner Cosa vuoi tu? Vai via Ma io voglio la cobblestone Vado a fottere il miner Non ne ha Allora vado a fottere le pile Che aveva fatto Ah no Cosa fai un piccone C'è una piccone E poi ti fai una piccola cava Anzi Ma c'è qua C'è qua già fatta Che cazzo Quando ferrabbiamo? Un po' Tipo? Cazzo Ho finito Sì vabbè Quell'errore lì Della inventory tics È quando tipo Finisci un piccone E lui vuole Ah no Ma è vero Che qua c'era il friendly Eh io l'ho levato Eh vabbè Chi se ne frega Io lo lascio Perché Invece voglio fare Subito subito Il La prograda La tinker Che con la prograda La tinker Possiamo bene Tranquillamente Fare il martello E col martello ci schiamo Un sacco di coppia Sì ho Tu hai ferro Eh In questo momento Ho due pezzi Coppi Me ne dai? Uno Aspetta questa No vabbè No non serve Non serve Che chi le piccone Shocking Che achievement è? Eh Achievement Lo dico subito Eh Della Oh brucia le string Che figo No Ah Della Della Cosa Della No Della Afflead Ma cos'è? Che cosa? In cosa consiste? Ho preso il charger Il certo squazzo E sei ragazzi Perché dato che In questo mondo È una serie per youtube In questo mondo Esiste Cioè Ho messo che spawna Solo il certo squazzo No Non brucia il libro Solo il charger Il certo squazzo Ho messo che spawna Può essere brutto Ma Speratevi per una serie del tu È molto brutto Brucio Cosa posso bruciare? Passi tempo di legna Però la legna Un'altra cosa Il Ti conviene Fare il stick Tieni fra Sì è vero Che adesso ho abbastanza ferro Per fare un piccone Magari Devo tutti Ridere il cuore Comunque fra Ti giuro La cambieremo Questa mappa Mi dà fastidio Tanto Cosa? La? Cambieremo la mappa Perché? Non è bella È brutta Guarda che basta Spostarsi Uh Rubino Della Project Head Hai il piccolo in ferro? Sì Vieni? Un attimo che Hai preso Rubino Mi 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 crafti un piccone E io vado in minera Pesantemente No Se tu mi dai Dieci di cobblestone Io ti scavo Rubino Ok A fare fatto I patti Aspetta che arrivo con calma Perché non ho Non ho quei fotti Arrivo Solo che ti pago poi eh Sì sì Perché qui C'è solo Un-site Dov'è? Dov'è? Qua Qua sotto Fra Ah Rubino È tutto tuo Quanta cobblestone ti serve? Cosa? Quanta cobblestone ti serve? Mi basta Ah no Non mi serve No no Spera 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 Dieci Dieci Non mi serve Non mi serve Vabbè Ti avevo chiesto se mi craftavi un piccone però Eh non Non ho proprio le cose Appena Adesso mi tippo Te lo crafto adesso un attimo Dovrebbe aver finito la fornace Sì Di vero il Rubino ce la dio Genio Ah ma sono solo due? Eh sì Sono craft di ferro il piccone Vabbè ne ho un sacco di Sì vabbè il craft ero lo stesso Però me l'ho creato Eh sì perché tanto adesso Arrivo da te Ok ho trovato il ferro Arrivo da te Eh Marchisio Marchisio Eh Dove cazzo sei? Dove Dove cazzo stai? Senti i suoni di spaccaggio Ma che cappio Dove devi invucare? Non lo so Ops T'ho usato il picco Ecco il ferro Ecco la notizia Io ti ho dato il Dammi il ferro Voglio vedere come Quanto è di ferro? 10 Un attimo Non sono un cestino No ma con comodo No no dammi Dammi il piccolo in pietra T'ho dato quello in Ah il piccolo in pietra Io sarò per picchiare Sì mi stai riempendo l'inventario Stai calmo Sei pieno Sì sono pieno Tieni Oh fermate Oh Marchi Ce n'è un altro E un altro Vabbè ma quanti ne ho fatti io J Waypoint Teleport Ok Tipo adesso Uranio Cosa devo fare? Ah giusto Coach Che bello Tra tre anni e mezzo abbiamo finito Bene fra però io Interrompere le leggi Ok Metto a cuocere questo Così il prossimo episodio Sarà pronto Oh hai trovato un po' di carbone Mi dicono Sì Due stack No è vero Ho detto Minerali grezzi Vanno dall'altro Poi i minerali veri e propri Iniziano da livello 30 Perché ho messo che L'oro Tutto l'oro Marbele Oh c'è Marbele C'è Marbele Tutto quello che Si aspetta Lo dico perché Allora Tutto l'oro Quello che è oro Silver Led Ferros E cose Spawno dal livello 30 In giù Fino a livello 5 Se non sbaglio I diamanti invece Spawno dal livello 5 A livello 15 Ed ho aumentato ancora di più Lo spawn Quindi Non dovreste mai Rimanere a corto Di i diamanti E se ne avete bisogno Infatti Ora qui Ho trovato Subito il ferro Io direi di salutare Vieni Sì Dai Non posso restare così Usa il TP Con io Lo so Aspetta Fai J TP Vai Su Dai Ecco la Quello che Cazzo C'è fatto una foresta Quando io vado in miniera Quando io vado in miniera Non riesco a lasciare I indietro minerali Dovrò accoglierli tutti E Hai fatto una foresta Qua attorno a casa Adesso vengo giù Ti prendo a cazzotta De pito che non vieni su Premi La fottutissima J Waypoint Teleport Aspetta Teleporto Ti vedo un boccio Aspetta Teleporto Io Te le porto io Ti sei quasi chiuso L'entrata Per un albero Che è cresciuto Aspetta Faccio una cosa Faccio una cosa Aspetta Aspetta Redstone Quanta roba Oh non riesce a fermarsi Sto qua Adesso facciamo Uno stacco e mezzo Di redstone Tipo Un lato di lava TTP Guarda che cavo hanno trovato Vabbè La spereremo nel prossimo episodio Tiè Vaffanculo Vabbè Ok quindi Questo episodio può essere A concludere Questo episodio No non ammazzarmi No non terminare Non provarci Non farci Brutto schifo Sei uno schifo Me ne vado a morire Di un'altra parte No volevo uccidermi da solo Guarda lui che Teneva tutto il cibo Per sé Oddio 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 Perché ho così tanta poca fame Tanta poca fame Oddio Sì tranquillo Tanto è un Schifo C'è, ce l'hai, ma è un bug vicino Fermo? Sendo qualcosa sta scavando questo boss Sì, intanto mi sono tipo suicidato da coglione Vabbè, quindi da questo episodio è tutto Ok, questo cosa ha finito Intanto vieni un attimo Guarda perché non mi sono fermato Vieni Sì, come al solito Questo episodio sarà durato da un modo Vabbè, tanto senti che poi lo devi dividere Guarda qua, guarda, guarda Sì, vai dove sei, va Sto arrivando Guarda qua, c'è questo Eh, oh, porca truta Sì, no, ma con... Sì, ma con comodo Sì, vai, altro Ok, da questo episodio è tutto Non uccidermi di nuovo Ciao, tutti Laghi, 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 laghi Da questo episodio l'importante sono io Toh, ti lascio anche la tomba Da questo episodio è tutto Quindi Io vi saluto Ciao Ciao Dodo 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 Grazie a tutti.